Per l'accoltellamento di ieri in via Carrabuffa, polizie e carabinieri hanno arrestato il 23enne Luca Martinez, che ora si trova in carcere, l'accusa è di tentato omicidio. Il consigliere di Forza Italia Marcotède presenta un emendamento alla finanziaria per il rilancio delle ex tenute agricole di Surigheddu e Mamuntanas. Il mondo sportivo algherese è in lutto per la scomparsa del notaio Luigi Enrico De Rosa, per oltre 20 anni presidente della Mercedes Basket. Un saluto a tutti voi, telespettatori di CatalanTV, ben ritrovati con il quotidiano appuntamento con l'informazione di Alghero. Come avete sentito anche dai titoli del nostro notiziario, apriamo ritornando sulla notizia di cronaca che abbiamo dato ieri. Si tratta dell'accoltellamento che è accaduto proprio nella giornata di ieri mattina in via Carrabuffas. Polizia e carabinieri hanno infatti arrestato per tentato omicidio il responsabile, il 23enne Luca Martinez, i particolari nel servizio. Le forze dell'ordine lo hanno rintracciato a poche centinaia di metri di distanza dal luogo dove era avvenuto l'accoltellamento. Luca Martinez era ancora in stato confusionale e con evidenti tracce di sangue sui vestiti. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e attualmente si trova rinchiuso nel carcere di Bancali. Dovrà chiarire agli inquirenti il perché dell'aggressione nei confronti di Tore Budruni, 62enne titolare di una pizzeria in via Carrabuffas. Proprio in quella zona ieri mattina si è consumato l'episodio che poteva avere risvolti ben più gravi. Nel corso di un'accesa discussione il giovane è estratto un coltello da cucina e dopo aver spinto a terra la vittima l'ha colpita con numerosi fendenti alla testa e all'addome. Probabilmente l'eccesso di impeto non ha permesso all'aggressore di assestare colpi precisi che avrebbero potuto portare a conseguenze drammatiche. Profonde le ferite riportate dal 62enne una anche vicina a un occhio e che ha fatto temere il peggio. È stato trasportato d'urgenza in ospedale e nonostante la pronunzi sia tuttora riservata non è in pericolo di vita. La fuga del giovane invece è durata ben poco perché gli uomini di polizia e carabinieri lo hanno trovato nel giro di pochi minuti e arrestato. E da tre giorni sulle coste di Alghero si sono abbattuti forti venti e ci sono state mareggiate che hanno provocato alcuni danni. Abbiamo parlato di questo ma anche di sicurezza in mare nel periodo invernale con il comandante della Guardia Costiera di Alghero Mirco Ruh. Mirco Ruh, comandante della Guardia Costiera di Alghero non siamo in stagione estiva dove voi avete forse il picco di maggior lavoro ma con queste condizioni avverse sicuramente la Capitaneria di Porto è in preallarme. Sì, noi comunque anche nel periodo invernale manteniamo sempre attivi i servizi di emergenza e di conseguenza tutto ciò che è la struttura finalizzata a portare soccorso e ausilio alla vita umana in mare. tramite il servizio con numero gratuito 1530 è quindi possibile contattare 24 ore su 24 da tutto il territorio nazionale le sale operative delle Capitanerie di Porto. In particolare in questo periodo dato anche il tempo particolarmente inclemente che si sta abbattendo sulla nostra costa che sappiamo benissimo essere particolarmente esposta ad ovest e quindi soggetto a forti mareggiate stiamo monitorando con una certa attenzione tutti i fenomeni naturali che possono portare ai problemi sia alle unità in navigazione in mare sia anche alle unità ormeggiate in porto. Dunque comandante abbiamo parlato di mareggiate tre giorni qui ad Alghero ci sono state compreso quello di oggi quali sono i pericoli e quindi gli avvertimenti che lei si sente di dare a chi naviga anche in questo periodo? Sì in questo periodo in particolare quando si riscontrano delle condizioni meteorologiche così forti e delle mareggiate così importanti si possono riversare in mare anche in prossimità dei porti diversi detriti quali tronchi anche di grandi dimensioni e altri rifiuti che possono diventare un pericolo per la navigazione e quindi il suggerimento principale è quello di prestare la massima attenzione durante la navigazione e di verificare bene che cosa c'è in acqua e eventualmente segnalarlo per far sì che anche altri utenti possano essere avvisati. Un suggerimento che ci sentiamo di dare è sempre quello anche per le barche ormeggiate in porto di verificare sempre la presenza di acqua piovana che si può essere depositata all'interno dello scafo e comunque di rinforzare sempre gli ormeggi in maniera tale da evitare problematiche anche per unità ormeggiate. E ci spostiamo a parlare di un argomento che abbiamo già trattato nelle precedenti edizioni del nostro telegiornale cioè delle tenute del futuro delle ex tenute agricole di Surighe, Duemma, Montanas queste sono al centro di un emendamento presentato dal vice capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Marco Tedde che chiede di fatto di dare gambe ai progetti di rilancio dell'area. È indispensabile superare lo stato di abbandono dell'azienda e utilizzarla come volano per l'economia e l'occupazione del territorio valorizzando il compendio a fini turistici, agricoli e sportivi. Il vice capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Marco Tedde richiama ancora l'attenzione della regione su Surighe, Duemma, Montanas lo fa presentando in Commissione Finanze un emendamento alla finanziaria 2015 con questo atto, sottoscritto anche dagli altri esponenti azzurri Tedde chiede lo stanziamento in bilancio di 150.000 euro annuali sino al 2017 da destinare a uno studio di fattibilità per la riqualificazione dell'area e la ristrutturazione degli immobili esistenti per scopi turistici, agricoli e sportivi. In sostanza, secondo Tedde, occorre dare gambe all'intesa istituzionale firmata nel 2007 dall'allora presidente Soru con la provincia e i comuni dell'area di crisi ma anche alle idee guida presentate dalla ora e due anni più tardi tra gli argomenti a sostegno dell'emendamento per Tedde c'è anche la possibilità di un utilizzo a fini termali e curativi considerando la presenza di sorgenti termali nelle immediate vicinanze di Surighe, Duo, per la precisione nella parte meridionale del territorio di Putifigari. E per la politica cittadina ieri si è riunito nuovamente il Consiglio Comunale che ha trovato unità di intenti su due temi delicati quali la privatizzazione della Sogeal e l'Istituto Agrario di Santa Maria La Palma. In particolare per quanto riguarda l'aeroporto si chiede che il sindaco si faccia portavoce delle istanze di Alghero soprattutto alla luce di un possibile passaggio di azioni della Sogeal ai privati chiedendo che la città abbia voce in capitolo. Il Movimento 5 Stelle pur esprimendo voto favorevole alla risoluzione ha ancora una volta espresso forti perplessità sull'attuale management. Per quanto riguarda invece la Scuola Agraria di Santa Maria La Palma nel corso del dibattito in aula tutte le forze politiche hanno sottolineato l'importanza di questa realtà e come sia necessaria per questa una valorizzazione. La prossima riunione dell'Assemblea Civica è fissata per martedì 10 febbraio alle ore 17. E adesso ci spostiamo a parlare di politiche familiari. Da Sant'Anna rendono noto di una collaborazione con la provincia di Trento per il sostegno alle famiglie algheresi. Accordo tra il sindaco Mario Bruno e il presidente Ugo Rossi. Entro il mese la firma. La Giunta ha approvato intanto il protocollo di intesa. Entro febbraio sarà siglato un protocollo di intesa sulle politiche familiari al fine di attivare una serie di iniziative e attività nel settore del sostegno alla famiglia. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato lo schema di protocollo di intesa. L'accordo prevede l'attuazione nella comunità di Alghero e delle famiglie in particolare a quelle numerose di una molteplicità di iniziative tra cui servizi estivi del progetto Estate Giovani e Famiglia pensato per favorire la conciliazione per i genitori dei tempi dedicati al lavoro con quelli dedicati al nucleo familiare. Si tratta di un servizio molto richiesto dalle famiglie che raccoglie e mette a disposizione tutte le attività dedicate a bambini e ragazzi nel periodo estivo di chiusura delle scuole. L'attivazione dello sportello Famiglia a disposizione gratuitamente per ottenere informazioni su benefici agevolazioni e politiche familiari ma anche la sperimentazione del taxi amico il servizio di trasporto privato a disposizione dei bambini per la scuola e ancora scambio di buone pratiche nuova cultura amministrativa verso il target Famiglia iniziative condivise atte a far crescere l'esperienza e la partecipazione delle realtà sociali dei rispettivi territori certificazione familiare comunale l'accordo è stato raggiunto tra il sindaco Mario Bruno e il presidente della provincia di Trento Ugo Rossi stringiamo questa intesa per portare nella nostra comunità progetti ed esperienze che si sono rivelate molto efficaci nel settore del welfare spiega il sindaco questo, aggiunge l'assessore ai servizi sociali di Ansini ci consentirà di proporre alle famiglie un sostegno concreto reale a completamento delle attività che l'amministrazione attua in riferimento alle leggi regionali sull'erogazione dei fondi e sui progetti personalizzati è giunto ora il momento di fare una pausa per la pubblicità ci ritroviamo subito dopo Ritorniamo in studio per la seconda parte del nostro telegiornale l'associazione Accademia Cantus et Fidis di Alghero coro Matilde Salvador diretta dal maestro Paolo Carta con il patrocinio della fondazione Meta e la collaborazione del dipartimento di architettura design urbanistica in occasione della giornata della memoria e del giorno del ricordo promuove una manifestazione commemorativa che si svolgerà domani sabato 7 febbraio presso l'aula 7 del complesso di Santa Chiara ad Alghero alle 20.30 l'evento vedrà la presenza della professoressa Marisa Brugna che proporrà la sua testimonianza diretta di esule le letture saranno a cura di Emma Gobbato accompagneranno strumentalmente il coro i maestri Paola Orani al violino Diego Salis e Marco De Murtas al clarinetto Antonio Papa al contrabbasso in collaborazione con la libreria Sirano di Alghero saranno poi disponibili i testi degli autori trattati durante la serata e una selezione di testi sull'argomento l'ingresso alla manifestazione è libero e sempre domani ma alle ore 11 presso la sala della fondazione Meta si terrà la conferenza stampa di presentazione sugli eventi e lo studio legato al centenario dell'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale da marzo sarà in libreria vicini cent'anni Alghero e la grande guerra 15-18 di Raffaele Sari Bozzolo edizioni del sole ad Alghero insieme all'autore l'assessore alla cultura Gabriele Sposito e il presidente della fondazione Meta Pietro Alfonso e per i prossimi 12 e 13 febbraio il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari ha organizzato un convegno sulla critica letteraria in merito il nostro direttore Stefano Soro ha intervistato il noto saggista e critico professor Massimo Onofri dopo il TG vi proporremo l'intervista integrale al professore ma anche con un altro professore algherese Sergio Soggiu che ci ha parlato di un possibile lancio dell'Università per stranieri ad Alghero quindi la critica ha senso se diventa un contributo alla costruzione del senso della vita di chi legge e su questo abbiamo intavolato una discussione ripeto i miei allievi sono stati a organizzarla soprattutto in cui c'è una compresenza diciamo di big intendo per esempio alcuni colleghi molto noti anche molto famosi nell'ambito socialitario penso a Alfonso Berardinelli penso a Silvano Nigro penso a Giorgio Ficara forse direi tutte e tre sintetizzano quello che c'è di meglio oggi nella sorgistica letteraria col contributo nostro diciamo così il mio e quello del professor Soggiu qui accanto a me per una riflessione generale che poi sarà sviluppata però dai nostri allievi ci sono molti giovani io più che invitare diciamo i miei colleghi ho preferito invitare i miei allievi che discuteranno un po' alla Plutarco col metodo delle biografie parallele mettendo insieme anche poco giudiziosamente alcuni famosi critici militanti quasi tutti morti qualcuno vivo per esempio in galdo e poi ragionandoci insieme non so per dire due che secondo me sono stati i due più grandi del secondo novecento Luigi Baldacci e Cesare Carpoli abbiamo invitato un giovanissimo Matteo Marchesini che forse è uno dei più bravi critici letterali giovani trentenni un fuoriclasse assolutamente che ci parlerà di questi due domenica domenica 8 febbraio il consueto aperitivo dello Spazio T prevede un appuntamento imperdibile all'insegna della comicità in compagnia di Nicola Virdis artista attore giocoliere cabaretista sassarese che condurrà il pubblico in un divertente viaggio nella sua vita grazie alla collaborazione con la pizzeria di Endi dopo lo spettacolo l'assaggio gastronomico prevede della buonissima pizza l'ingresso è riservato ai soci Spazio T Arci e prevede il pagamento di una quota di partecipazione di 5 euro con l'occasione prosegue anche la campagna di tesseramento di 10 euro che comprende il primo aperitì visto il numero limitato di posti l'organizzazione invita il pubblico a presentarsi con largo anticipo e adesso parliamo di sport e solidarietà due realtà che quando si uniscono sanno regalare ad alcune persone momenti davvero speciali come è successo ai ragazzi del centro di salute mentale di Alghero che hanno avuto la possibilità di andare al Pala Serra di Migni a tifare la Dinamo Banco di Sardegna un sogno che è diventato realtà quello degli utenti seguiti dal centro di salute mentale di Alghero e che frequentano il centro di urno di Via Costa lo scorso 28 gennaio in occasione della gara di Euro Cup tra la Dinamo Banco di Sardegna e il Budgnost i ragazzi accompagnati dai loro educatori insieme ad una rappresentanza dell'associazione Il Labirinto sono stati ospitati al Pala Serra di Migni per assistere alla gara della squadra Bianco Blu una grande emozione vissuta tra il numeroso pubblico che ha assiepato gli spalti del palazzetto e con i ragazzi soddisfatti e stupiti di ritrovarsi a vivere una così esaltante esperienza orgogliosi di essere parte del caloroso pubblico che tifa Dinamo proprio per questa possibilità data ai ragazzi il direttivo dell'associazione Il Labirinto promotore dell'iniziativa in una nota rivolge un sentito ringraziamento alla dirigenza e a tutto lo staff della Dinamo Basket per l'accoglienza riservata ed un grazie di cuore ai volontari dell'associazione Misericordia di Alghero che mettendosi a disposizione per il trasporto dei ragazzi verso Sassari ancora una volta hanno dimostrato grande professionalità e spirito di collaborazione un grazie prosegue la nota anche i responsabili del CSM e del centro diurno che hanno sostenuto e creduto in questa iniziativa l'associazione Il Labirinto da sempre impegnata per il sostegno alle famiglie che vivono al loro interno la sofferenza mentale auspica per il futuro la possibilità del ripetersi di simili esperienze utili a favorire maggiore attenzione nei confronti di chi spesso queste attenzioni non le ha chiudono e prima di parlare di basket giocato dobbiamo purtroppo riferirvi della scomparsa del notaio Luigi Enrico De Rosa 79 anni storico presidente della Mercedes Basket per oltre 20 anni alla guida del club bianco-azzurro con la presidenza De Rosa la Mercedes nel 2004 ha conquistato la storica promozione in A1 categoria che la formazione algherese ha mantenuto per tre stagioni la proprietà e tutta la redazione di Catalan TV si uniscono al dolore della famiglia in questa triste giornata esprimendo le più sentite condoglianze i funerali si terranno domani alle ore 10 nella chiesa del Santissimo Nome di Gesù e domani pomeriggio in occasione del match contro il Belize Roma al Palacorbia verrà osservato un minuto di silenzio appunto per ricordare il notaio De Rosa ma ora nel servizio di Stefano Soro i dettagli sul match contro la formazione laziale della Mercedes non ci sarebbero dubbi sulla persona alla quale dedicare un'eventuale vittoria la Mercedes domani giocherà anche per il suo presidente non sarà facile in una giornata triste un po' per tutto il movimento cestistico algherese per Sanchez e compagni e si tratta del debutto nella seconda fase considerando il turno di riposo osservato nella prima giornata al Palacorbia arriva una squadra capace di vincere con uno scarto di 20 punti su Salerno in regular season il Belize Roma ha raccolto solo 4 vittorie arrivando al penultimo posto nel girone meridionale tra le bianco-azzurre è possibile il rientro di Petrova che ha recuperato dall'infortunio mentre sarà costretta al forfai Gagliano che non ha ancora smaltito il problema a un piede conquistare già domani i due punti sarebbe di fondamentale importanza per gli algheresi che tra una settimana affronteranno poi il derby contro l'Astro Cagliari vincente la prima giornata e impegnata domenica Milano e il basket chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale vi ricordo dopo i TG l'intervista integrale con i professori Onofrio e Soggio ora vi lascio alle previsioni del tempo per domani vi ringrazio come sempre per averci seguito arrivederci grazie a tutti grazie a tutti